ragazzi eccoci qua passo un altro robot della mia collezione un robot secondo me bellissimo questo da ragazzo da bambinetto me l'avevano regalato era una versione trasformabile era la gola penso faceva gola a tutti i ragazzini perché insieme al Daltanius che avete visto in un altro video c'era anche il Daitan 3 era più piccolino certo era meno era un po più diciamo squadrato bello per quei tempi era bellissimo si trasformava in cara armata in navicella e per quei tempi tutte queste trasformazioni veramente era tanta tanta roba la match patrol non c'era però ce l'avevo perché la vendeva una parte più grossa ne avevo due una c'era una grossa 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 e una leggermente più piccola io ne avevo avute due grosse poi col tempo ecco quelle devo dire la realtà non so che fine ha fatto non posso dire di averle vendute perché non so che fine ha fatto poi di questi ne avevo un altro ne avevo altri due uno della bampresto piccolina in plastica che visivamente trasformabile visivamente era bello però come si staccavano tutti i pezzi era fatto veramente male io so che tanti di voi che sanno quello che intendo dire c'era lui c'era la minifigura un po in gomma con la testa grossa non di arambeggio ma del del suo maggiordomo e però c'erano certi che c'erano anche arambeggio io avevo trovato quella lì col maggiordomo e visto nella scatola bellissimo esteticamente era bello forse essere pignoli era anche un pochino fatto meglio di questo più piccolino però però quando lo tiravi fuori dalla scatola ti rendevi conto della minchiata che avevi fatto perché faceva veramente schifo si staccavano tutti i pezzi erano incastrati male si trasformava ma la trasformazione era veramente triste e l'ho rivenduto alla velocità della luce devo dire dirvi la verità a quei tempi che mi diciamo il negozio che mi vendeva i giocattoli questi giocattoli qua mi aveva detto mi ha detto non lo stare a comprare perché che avevo chiesto mi ha detto che non lo comprava più non lo portava più perché l'aveva provata era una cioffecca mi ha detto lascia perdere sembra bello ma non lo è io testone l'ho voluto comprare uguale un'altra parte quando mi sono accorta ho detto c'ava ragione lui comunque e via da bambino piccolo ce l'avevo un'altra versione di questo trasformabile bello però non so che fine ha fatto quello proprio non lo so non posso dire che ce l'avevo l'ho venduto perché quello ce l'avevo me l'ho perso ma ovviamente qualche scatolone uscirà fuori oppure mio padre ci sta che l'ha buttato via perché con il passare degli anni qualche giocattolo me l'ha buttato via e avevo due match petrol e che dire niente questo ah lo stand che vedete qua non è il suo è del modello che hanno fatto dopo che è uguale ma cambia la colorazione cambia la colorazione del diorema cioè ho trovato solo quello stand lì in vendita a poco su ebay l'ho preso subito perché sennò c'era un altro sistema di mettere la roba sui cingoli sulla parte dove c'è nei cingoli e a me non piaceva perché si staccava di continuo dato che io sono un pignolo rompipalle lo volevo comprare appena ho visto che è uscito fuori qualcuno che vendeva i pezzi separatamente e vendeva lo stand gli ho fatto la mia offerta il maletto va bene l'ho comprato e sono stracontento perché sennò lui lo stand e questo modello qua non ce l'ha ce l'ha il modello dopo è una cosa che io non capisco perché quello dopo ce l'hanno fatto e questo no però io ce l'ho che dire come ho detto questo ma senza stand lo avevo già però venduto e avevo la fortuna di avere anche due match patrol ne avevo così proprio queste due ne avevo una che era nella confezione e una l'avevo comprata a parte così potrò ottenere una in versione macchina e una in versione navicella navicella shuttle però va bene avete capito comunque prima di parlare del dayton parliamo come potete vedere c'è anche a rambenjo raffigurato bellissima questa cosa penso che sia una delle uniche che ha rambenjo raffigurato dentro ovviamente non si può aprire non si può prendere però qua c'è le istruzioni che non vi sto a tirare fuori e non ve lo trasformo perché ragazzi non è difficile però ci devi perdere un po' di tempo e francamente è un po' anche difficile quello che sono diventato pazzo è tirare fuori i cannoni sotto perché quando ho provato a tirare fuori i cannoni sotto mi si è staccata una perché sono due parti se non mi ricordo male o tre una dentro l'altra che poi si sfila e esce fuori tutta quando l'ho tirato fuori un pezzo si era staccato non rotto staccato però è rimasto dentro quindi per tirare fuori la parte che era dentro sono diventato scemo con le pinzette per pura di non rovinarlo non vi dico quindi non ve lo trasformo ma chi conosce il modello lo sa e comunque vi assicuro che si può trasformare sia in carro armato che in navicella ed è molto bello allora torniamo qui qui c'è lo stand con tutte le sue armi le mani i pugni le spade gli scudi che sono queste specie di 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 vabbè non mi ricordo qua ci sono tre match petrol come potete vedere piccolissime che si perdono molto facilmente una in versione macchina da polizia una in versione più piccola che entra dovrebbe penso che possa entrare dentro lui e una invece in versione navicella che ha un altro diorema che si può piegare per fare la trasformazione va cambiato per trasformarlo in navicella in carro armato c'è un'altra espressione della faccia che io ho messo questa qua con la bocca aperta perché mi piace di più perché lui se lo ricordate era uno di quei robot che aveva l'espressione poteva si muoveva parlava cioè non è che parlava tantissimo però bocca l'apriva la chiudeva poi cos'altro dire questo credo che sia non mi ricordo se un pezzo che va attaccato forse al carro armato c'è questa specie di mazza chiodata qua dietro ci sono i cingoli con con questa specie di catena insomma è bello veramente un bel pezzo veramente 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 un bel pezzo sono stra contento di averlo comprato certo ho provato a ricercare un'altra volta un'altra match patrol ma non sono riuscito a trovare nessuna parte mi sarebbe piaciuto mettere questa e vicino quella trasformata in shuttle che adesso navicella che adesso vi farò vedere quel giocattolo che mi ricordo adesso hanno fatto un modello in scala un 18 credo più dettagliata però ecco l'unica cosa che non ho capito non mi è piaciuto il perché hanno fatto i vetri scuri non si vede dentro con potevano raffigurare visto che costa dei soldi un piccolo rambeggio da poter anche mettere dentro se arriva vabbè non c'è mi ricordo che i miei tempi di quando ero un ragazzo ora non so quella che hanno fatto adesso in scala se lo fa per far uscire diciamo la testa della navicella dovevi premere la sirena e usciva fuori era molto bella molto molto anche quella purtroppo non so che fine ha fatto dov'è su internet le trovi o tutte diroccate ridotte male oppure le trovi buone ma costa l'ira di dio vabbè ragazzi vi trasformo questa me la trasformo mi sembra anche giusto visto che non vi trasformo al robot e niente vi 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 anzi ve lo dico se volete vabbè ve lo faccio vedere dopo un po' meglio ed eccola qua ragazzi è veramente bella non ha diciamo sistemi di di a molla che però si trasforma mano manuale però è veramente bella cioè tenete presente che piccolina pure veramente dettagliata ecco mi piacerebbe averne due e metterne entrambe le trasformazioni però amen poi è che prima o poi se la trovo la sto cercando quando la trovo la compra che se la trovi la trovi delle cifre ho trovata questa a 100 euro c'è un po' per la macchina così 100 euro adesso esageriamo eccola qua come potete vedere è veramente veramente carina vi dico quanto è lunga nemmeno 8 centimetri 7 centimetri e mezzo però come potete vedere e chi lo sa sa che dentro si vede la figura di aran benjo che guida è bellissima questa cosa qua veramente bella ora so che è uscito un set di plastica da assemblare che è molto bello che si trasforma al deluxe e anche lui ha una piccola macchinina un po' più grossa di questa anche quella trasformabile ecco chi giustamente perché non è così semplice non ha non vuole spendere troppi soldi può prendere anche quello visto dei video ed essere molto bello io con questo mi ottengo ben stretto adesso passiamo al nostro Dytan un po' si piega un po' si è snodabile però poco però è bello così è bello pesante veramente pesante perché c'è tanto ferro c'è anche tanta plastica però c'è anche del ferro cosa vi devo dire cosa vi devo dire ecco lo faccio vedere dietro qui sotto ci sono i cingoli ragazzi c'è poco da dire certo non trasformandolo il video dura poco però è veramente questo qua parliamo che alto 27 centimetri e mezzo è bello ragazzi veramente bello io se siete degli amanti dei fans di questi robot anni 80 e vi piaceva il cartone animato che quello l'ho trovato ancora in qualche mi sembra su prime video dovrebbe esserci questo ecco questo sì c'è anche questo delle vene comiche ma va delle vene anche molto drammatiche perché come sapete poi c'è insomma quello vedete altri canali che raccontano la storia tutto quanto comunque diciamo lui odia questi meganoidi e dovrebbe no dovrebbe sembrerebbe che nella trama com'è che si chiamava vabbè i due cattivi adesso baron non me lo ricordo comunque il cattivo quello l'ultimo che in realtà dorme fino all'ultimo perché è in coma e poi si sveglia alla fine del proprio la fine quando per lui lo batte sembrerebbe che quello potrebbe essere una versione del suo padre e l'ultima la cattiva quella diciamo la sua discepola in realtà sarebbe sua madre una cosa del genere forse anche lui stesso potrebbe essere un meganoide uno il primo meganoide che ha costruito ma non lo so ho sentito dire queste voci però di vero non si sa cosa c'è anche perché ha fatto questo finito completo ha un finale un pochettino strano credo che non spoiloro niente se lo dico comunque lo sapete no c'è il finale in cui se ne vanno via tutti rimane solo lui in casa perché tanto ha ucciso tutti i meganoidi e basta fanno capire che è rimasto solo non capisco quel finale l'ho visto e rivisto ma non lo capisco perché non capisco perché le due fighette se ne vanno il bambinetto credo che se ne vada via anche lui con le fighette forse non lo so non me lo ricordo e il maggiordomo va via anche lui che aspetta l'autobusco l'ombrello e rimane a Rambangio chiuso in questa villa che chiusa e rimane lui solo non lo so non l'ho capito tristissimo il finale ma è fatto così prima o poi mi metto lì lo provo a rivedere con calma tutto però è bello la trama è molto bella vabbè ragazzi niente questo video finisce qui perché tanto c'ho poco da aggiungere la mia opinione ve l'ho data io dico ripeto che se uno non ce l'ha gli conviene prenderlo questo non vi dico di prendere tre versioni perché se no ho spendito l'ira di dio però se riuscite a trovarlo prendo due versioni della macchina sì ecco sappiate che ma lo sapete già che se prendete la prima edizione c'è questa non c'è lo stand per tutta la roba c'è un altro sistema di mettere ma a me non mi piace se prendete però la versione dopo va bene uguale la colorazione è bella uguale l'unica cosa qua l'attacco solare il cornoni c'ha un colore un colore metallizzato che a me non piace però va a gusti vabbè ragazzi niente il video finisce qua vi saluto e spero che vi sia piaciuto ciao e al prossimo robot ciao ciao